Aumentano i collegamenti tra Messina, Catania e Siracusa. Da domenica 14 aprile, il regionale di Trenitalia, in accordo con la regione siciliana comittente del servizio, intruderà nuovi collegamenti regionali per soddisfare le esigenze di mobilità di pendolari e turisti che si muovono tra le città. Inoltre alcuni servizi sulla linea Messina-Catania-Siracusa subiranno modifiche di orario di percorso. In particolare, dal lunedì al venerdì sono previsti due nuovi collegamenti da Catania-Centrale a Giarre Riposto e tre invece da Giarre Riposto a Catania Centrale. Un nuovo treno circolerà da Catania-Aeroporto Fontana-Rossa a Giarre Riposto e quattro ulteriori collegamenti nei due sensi di marcia tra Taormina-Giardini e Catania Centrale. Dal lunedì al sabato sarà introdotta una coppia di treni tra Catania Centrale e Siracusa e un nuovo collegamento da Catania Centrale a Catania-Aeroporto Fontana-Rossa. Nei giorni festivi, infine, sono quattro i collegamenti aggiuntivi tra Messina Centrale e Siracusa e quattro tra Catania Centrale e Siracusa. Previste inoltre modifiche di orario e di percorso per alcuni collegamenti da regionale, sempre sulla direttrice Messina-Catania-Siracusa. Soddisfazione da parte dell'assessore alle infrastrutture e alla mobilità della regione siciliana Alessandro Alicocche ha affermato questo incremento è indice di una maggiore attenzione sia nei confronti dei pendolari che dei turisti, anche in vista di una stagione estivia che vedrà certamente un notevole flusso di viaggiatori su tutto il territorio regionale e verso le città più visitate. Voglio pertanto esprimere un apprezzamento per l'impegno che Trinitalia continua a profondere per la Sicilia e sono soddisfatto per i risultati che la sinergia con la regione sta producendo.